Il parco chiamato Waterworld, uno dei parchi più grandi del Regno Unito, si tratta di un parco acquatico, viene ad essere ipacuato, tante ambulanze, equip e loco che andavano a ligamentare, meditazione degli occhi, ma anche nausea e, diciamo così, dolore diffuso, soprattutto in gola. Waterworld è ubicato nel Festival Pock, Stockholm Trent, in Staffordshire, circa 400.000 visitatori che, va da avere ogni anno, si fermano improvviso per i malori causati nei visitatori, che si sono bagnati nei ciscini, ma anche negli scivoli. Insomma, a farò per a breve, il parco viene evacuato perché tra i visitatori ci sarebbero dei malori. Sono state schierate molte ambulanze, da come si legge qua sul web, dicendo di ambulanze e loco per cercare di aiutare e prestare soccorso alle persone più in volte. Vi ringrazio in primis per la visione, in secondis per l'ascolto di questo video oggi, scrivetevi, commentatevi, fatemi sapere cosa ne pensate, un cordiale saluto a voi, l'Ariando, un'altra doveria.